la cucina ma non c'era niente le assi le abbiamo fatte da lì la cucina ce l'ha prestata erica e federico la bombola ma vivi peggio di quelli di qua andiamo a vedere il bagno ce l'ha la porta ah beh il famoso il mitico lorenzetti ha preso per il culo generazioni e generazioni di quattro amantecchi certo neanche in calabria no 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 train spotting no però il materasso dovevi lasciarlo per te ma che schifo è incredibile ma scusa se c'è se lo sa barbera ti dà 110 l'oro in nome della scienza in una situazione poco diversa no no molto migliore dai io c'ho il tetto di di amianto beh la lamiera non va bene si scalda troppo ah dice vabbè c'ho freddo